Si chiama Signorina perché ha un aspetto slanciato in quanto le ruote sono molto alte rispetto al resto della carrozzeria, le ruote motrici, e gli danno questa caratteristica di gamba lunga, si può dire, come una bella Signorina. È dal 1909 che questa macchina qui viaggia e porta a spasso persone. Tutti a bordo di Signorina, la locomotiva centenaria che porterà il primo maggio i suoi passeggeri in Casentino. Una giornata all'insegna della cultura, della gastronomia e della natura. Due possibilità, una visita storico-artistica o una bella camminata. La bella camminata sarà dal passo della Calla fino all'eremo di Camaldoli. Invece la visita storico-artistica è per il Museo archeologico di Bibbiena, nella mattinata, e nel poveriggio la visita al sito archeologico di Pieve a Socana. Ovviamente chi va a fare la camminata la gastronomia la assaggerà solo con la degustazione finale alla stazione di Bibbiena, con i nostri vini, i nostri salumi, formaggi, le cose del Casentino e di Arezzo. Però la potrà assaggiare anche chi invece della camminata farà la visita storico-artistica, perché a Bibbiena, proprio domani, c'è la sagra del grigio, del famoso grigio del Casentino. Signorina non si ferma qui, si rimetterà presto in moto per arrivare anche nelle altre vallate aretine. Il 7 di giugno, che vedrà proprio qui, alla stazione di Pescaiola, la mostra mercato del modellismo ferroviario, in concomitanza con l'uscita del treno, che per quell'occasione non andrà in Casentino, ma andrà in quell'altra bella vallata che abbiamo, che è la Val di Chiana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.